Il lato oscuro della filosofia arriva alla Rocca Costanza di Pesaro dal 14 al 17 luglio. Dopo il successo delle edizioni precedenti, con la rinnovata collaborazione del Comune di Pesaro e della Regione Marche e con il sostegno del main partner Enel, PopSofia rilancia la sfida culturale con il tema Il ritorno della forza. Il programma del festival, ancora una volta, è in sintonia con le inquietudini e le paure del mondo contemporaneo. E non potrebbe essere diversamente. Lo scopo di PopSofia è pensare e interpretare le urgenze del presente, ha detto Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di PopSofia. Il ritorno della forza sarà declinato in una molteplicità di linguaggi, dalla finzione dell'arte cinematografica alla realtà degli eventi storici e politici che sconvolgono l'attualità. Dalle guerre stellari alle guerre globali. È stato presentato in anteprima il mini documentario Star Wars Philosophy, ora disponibile sul sito www.popsofia.it, realizzato da Riccardo Minucci, regista di molti appuntamenti targati PopSofia, che ha spiegato con le immagini il senso di questa scelta. Guerre stellari non è solo una saga cinematografica, ma una grandiosa mitologia collettiva che ha contagiato il nostro immaginario e il nostro linguaggio. Una potente metafora cinematografica che apre un confronto con gli atti di guerra che terrorizzano l'attualità. E proprio alla parola che l'Occidente vuole rimuovere dall'orizzonte del pensabile, la guerra, sarà dedicata a un'intera giornata del programma del festival. Dalle riflessioni dei filosofi sul confine tra democrazia e fondamentalismo, tra amicizia ed inimicizia, tra libertà e sicurezza. Alla guerra delle immagini simboliche e dimostrative dove finzione e realtà si confondono nei giochi della comunicazione di massa. Dalla filosofia della guerra con Umberto Curi, alla teoria del kamikaze con Laurent de Souter, fino al filo show The War, il lato oscuro del presente, con Simone Regazzoni. Ogni anno Pop Sofia rilancia sui contenuti, osserva il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, innalzando la qualità della proposta complessiva. Una scelta capace di alimentare stimoli, riflessioni e provocazioni su più livelli. Filone che ben si sposa con la trasversalità e la fruibilità di un festival in grado di andare ben oltre la superficie del visibile, per indagare sulla reale essenza delle dinamiche sociali e culturali. Come ogni anno inoltre, è fondamentale la partecipazione dell'ufficio scolastico provinciale e della dirigente Marcella Tinazzi. Le scuole pesaresi, infatti, sono state protagoniste di tutte le edizioni, partecipando attivamente all'organizzazione del festival e proponendo performance musicali e filosofiche originali. Dopo la consegna degli attestati di partecipazione, sono state rinnovate le proposte di collaborazione per l'edizione 2016, un'occasione per rafforzare il canale privilegiato di confronto con le idee delle nuove generazioni.